Nel 2013 le famiglie del territorio in cassa integrazione sono state circa 900. Ardese e Nautica i settori più in crisi, meglio le aziende chimico-metallurgiche che hanno aperto a clienti esteri, ma la situazione resta precaria. In questo momento ci sono a livello nazionale e a livello di Genova dei segnali di miglioramento dei parametri generali dell'andamento delle aziende. Dal punto di vista del nostro territorio ancora questi non si vedono, ci sono realtà che soffrono di più, altre che riescono a soffrire di meno, ma soprattutto quelle realtà che sono riuscite a aumentare il raggio d'azione della parte commerciale, quindi andare più fuori Italia. La differenza tra il 2012 e il 2013 presenta un 15-20% in più di domande di sostegno al reddito. Sembra che ci sia una piccola diminuzione all'inizio giusto del 2014, però comunque i dati non sono confortanti. Stamattina sindacati, associazioni datoriali e Banco di Chiavri hanno firmato un'intesa a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga. La banca anticiperà i soldi alle famiglie evitando loro lunghi tempi di attesa. L'intervento finirà col versamento dell'indennità da parte dell'Inps. Quante mensilità anticipate? Sono al massimo sette mensilità perché col sindacato abbiamo concordato che questo normalmente è il lasso di tempo che intercorre tra il momento della richiesta e il contributo. Le famiglie in sostanza quando vengono a sapere che sono entrati in cassa integrazione devono venire in banca e dire io sono in cassa integrazione. A quel punto c'è una serie di moduli che abbiamo concordato con le associazioni datoriali e con le associazioni sindacali per accedere. Sono moduli però molto semplici, la dinamica è molto semplice e anche molto facile. La banca tutto questo lo fa gratis? Sì, la banca lo fa totalmente gratis. Questo è proprio un intervento di natura assolutamente sociale.